È stato un malore a causare il decesso di Luca Togni, il 52enne scomparso da casa il 29 aprile scorso e ritrovato poi senza vita il 15 maggio in un canale lungo la via Aurelia a Pietrasanta. Giovedì è stata effettuata l'autopsia da parte del medico legale Stefano Pierotti e non sono emersi elementi tali da far pensare a responsabilità di terzi. Il decesso è stato causato probabilmente da un malore, ma non è da escludere che possa essere avvenuto successivamente annegando nei pochi centimetri d'acqua del canale. Togni era ben voluto da tutti, viveva da solo nella sua abitazione a Pietrasanta da dove era uscito in sella la bicicletta, ma poi di lui si erano perse le tracce fino al ritrovamento purtroppo senza vita nel canale del suo corpo. Lunedì la salma verrà trasferita all'obitorio presso la casa funerale alla Piramide a fianco del pronto soccorso dell'ospedale Versilia e martedì alle 16 alla Pieve di Val di Castello sono fissati funerali per l'ultimo saluto.